Il governatore Attilio Fontana, dopo l'incontro col sindaco Sala, ha parlato di una sorta di salvadanaio comune che permetta di realizzare anche importanti risparmi dalle economie di scala, come gare uniche per le stesse tipologie di riparazione all'interno degli immobili. L'ipotesi di lavoro, ha chiarito poi il sindaco, è individuare una soluzione nel medio-lungo termine che consenta di omogeneizzare la gestione delle case popolari in modo sia percepibile dai cittadini lo stesso approccio tra regione e comune. Il primo passo deve essere la riduzione di immobili sfitti, poi anche la velocizzazione delle manutenzioni anche con sistemi comuni di gestione per garantire maggior tempestività. Tra le varie proposte inoltre, quella su cui ha particolarmente insistito il presidente della Lombardia è quella di estendere i sistemi di videosorveglianza alle case popolari non solo di Milano, ma di tutta la regione. Tra le altre priorità di cui ha parlato Fontana c'è l'intervento per realizzare la riapertura dei navigli insieme al comune e a partecipare al finanziamento dell'operazione che il comune intende portare avanti. La regione ritiene particolarmente importante l'intervento e lo appoggerà, ma non siamo in grado di dire con che entità intende partecipare. In ogni caso, la regione vuole essere al fianco del comune, ha spiegato Fontana. Quello della riapertura dei navigli è stato uno dei temi al centro dell'incontro tra Fontana e Sala a Palazzo Lombardia. Gli altri sono stati appunto le case popolari, il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza e la cessione delle quote della società Serravalle detenute dal comune alla regione. Il prossimo incontro del tavolo Regione Comune, che avrà scadenza mensile, è fissato a giugno a Palazzo Marino, ma uffici e assessorati lavoreranno stabilmente, ha precisato il sindaco. Mi sembra che stiamo tracciando un percorso operativo molto milanese e molto lombardo, ha aggiunto. Sulla stessa lunghezza d'onda Fontana, che ha detto che si può fare un lavoro ottimo insieme a dispetto delle polemiche.